Gli angeli custodi vi danno la buonanotte con questo messaggio. Sette di pensiero. La confusione nella tua vita si è dissolta. Ora all'improvviso è tutto chiaro. Che la verità ti sia stata rivelata dagli angeli o da un amico, o che tu l'abbia scoperta da solo, esserne consapevole e averne preso coscienza è meraviglioso. Se ne hai bisogno, sentiti libero di prenderti del tempo da trascorrere in solitudine. La verità è stata svelata e ora tutto ha un senso. In effetti c'era una logica dietro eventi che sembravano del tutto casuali e privi di significato. Qualcuno può averti fornito queste rivelazioni o forse l'hai raggiunto da solo. In ogni caso, la verità ti conferisce un nuovo potere. È possibile che tu abbia informazioni importanti per qualcuno che potrebbe avere un disperato bisogno del tuo sostegno. Tu o qualcuno che conosci potresti sentire l'esigenza di trascorrere un po' di tempo da solo. Un momento di pace e solitudine può far emergere molti tesori e talenti nascosti. Altri significati. Un momento per riconsiderare le priorità. Scegliere con attenzione. Accogliere la verità. Fraintendere le motivazioni di qualcuno. Questo è il messaggio della buonanotte.